La canzone intelligente No, no, assolutamente no Bello villaggio, ho visto? Quattro hotel, il mare è fantastico Abbiamo tutte queste palle, il sole C'è un po' troppa sabbia nella spiaggia, eh? Però vabbè, c'è l'acqua del mare è un po' salata Però ci sta, dai Ma tu sei noioso Eh, non è che sei noioso, guardo il particolare, il dettaglio Nessi amore, ma la camera l'hai vista? Eh certo, ci siamo entrati e... Io vorrei andare a vederlo di nuovo Facciamo un po' di cicchicicchi Da un po' di... Dai, una vacanza insieme Come scusa? Vuoi fare un po' di? Cicchicchi Dai amore, un po' di cicchicchi Ah, ma tu vuoi dire, vuoi dire in pratica Dove due persone si avvicinano Un po', sei minuti Atmosfera magica Candele Bravo Candele, rumore Profumo di mare Tessuto di seta Cicchicchi Pelle a pelle No Amore, ma dai! Amore, io sono andato qua Trovo una o due settimane per stare in completo relax Ho capito, ma a casa tu lavori, io lavoro, ma è cicchicchi Siamo qua, non facciamo niente cicchicchi Ti ho detto che voglio stare in completo relax Mi sveglio muscolare! Musco muscolare! animazioneиз locker animazione 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 Oh 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 oh, oh oh oh! Oh oh oh! Turista! Turista! Dieteto! Ehi tu! Come ti chiami? Ehi fulvio! Va bene Pasquale, stai con l'insenglio muscolare! E due! E due! E tre! E quattro! E cinque! Animazione Sette Mari Club Floriana Laguna, risveglio muscolare! Non proverso! Animazione! 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 Ma che sono questi? Sono peggio da Fastweb! Sono animatori! Animatori! Rianimatori! Sono squiricati questi qua! Amore, sono animatori! Che animo, no? E altro che anima, perché è un gatto di sei metri per arco! Vabbè! Oh, io sto dentro qua, piano, ma stiamo veramente... Adesso lo vedo, dopo... dopo... le sistemo io! Amore! Dai, adesso che ti tempo risvegliato? Andiamo a fare cicchicchi! Dai, amore! Amore, ma tu per cicchichi intendi sempre quella situazione dove uomo e donna si avvicinano piano piano senza veli e poi piano piano si mettono il loro corpo... Che hai mangiato stasera? E poi si avvicinano sempre di più e poi fanno una macedonia? Si, si, si! Dai, amore! Amore, hai detto di... No! Io sono qua in vacanza! E poi lo scopo! 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 Esatto! E poi ci chici! Perché fare fatica? Sei amico o no? Eh, sei amico o no? Tu la conosci bene? E allora, cara amore mio, tranquillo, tranquillo, il mio giornale è di gioia e di relax! Bracetto! Animazione! animazione 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 ooo 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 turista turista eee eee e tu come ti chiami diventino sono sempre io fungo vai paolo con le freccette eee 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 oooop animazione 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 no prove animazione 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 sono carini questi animatori sono proprio carini e simpatici sono fanno animazione soft ma dire ma dai sono un po' crosta no? ma divertire certo eh non lo vuoi fare tanto cichi cichi sono convolgenti ragazzi assolutamente c'è anche il dottore che è il villaggio ma ascoltami questi qua io adesso inizio a fare subito una bella letta da sette mari macri sotto i mari come si chiamano questi qua non ce la faccio più sei noioso sono noioso guardali ma dai ma sei bravi ragazzi sono usciti a San Patrignano e li ha messi qua e tra parolissimi della società sono qua ma sei un burbero se non vuoi venire con loro ma sai cosa è tua ma scusa sono bravi ragazzi sono bravi ragazzi se non ho ma ti fanno di orvi ti fanno di orvi tutti fanno di orvi senta satanica guardali ehi ehi Pasvolino dove vai? va a fare ciclicini va bene? che si sforzi lui dai andiamo a fare ciclicini amore te lo spiego un'altra volta due settimane ho pagato 1800 euro io a casa non pago sono otto mesi che a casa non pago pago 1800 euro per fare ciclicini con te ma siamo matti cioè io a casa lo potrei fare gratis amore hai mangiato un topo morto? nooo ascoli vedete ho chiesto una cosa gratis sono otto mesi che non lo facciamo vuoi che io venga in settimana in vacanza a 1800 euro per fare un ciclicicchi e secondo te io perché ho infinito così tanto per questa vacanza no? eh amore io voglio fare totale relax mi vuole animazione 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 oh 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 turista turista ehi tu come ti chiami? sei beduino funio va bene riccardo fai con i bingone 栧 colesco NATO ma animazione settemarray club floriana labuna beach volley No problem, animazione, animazione, animazione! No ma io faccio una lettera sotto ai mari qua, come si chiamano? Ma sono bravissimi! Mi hanno fatto giocare un Kovic Molli, qual'è il problema? Un Kovic Molli? Sembra una rete! Ma non è il problema, è sempre un musone! Sempre un musone, guarda! E metti lo smalto, sembra tanto lo garingia! Dimi cosa vuoi? Allora tu... Cicchi cicchi! Guarda come sono piatti! Allora amore, te lo spiego un'altra volta! Cicchi cicchi! Io lavoro 16 ore al giorno, sono il tangenziale tutto il giorno! Amore, devi pagare i piedi! Ma non sto scherzando, veramente! E allora ti ho detto amore, io a casa non faccio niente! Puoi che qua ci sono 45 gradi! Cicchi cicchi! E allora io lo stesso sono! E' un bravo se è una vera! E' un po' con un seppone! E' un ragazzo! E' un po' con un seppone! E' un po' con un seppone! Turista! Turista! Aventalo! 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 Vai con la progete! E due! E tre! E quattro! E cinque! No problem! Animazione! 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 Questa è animazione o il Club Diving, il centro di versione? Allora amore, sei tu me dai! Ti senti bella fresca adesso eh? Non l'ho mai bevuto guardando in vita mia! Cosa per fare? Allora amore, non fare queste cose che mi irritano! Dai amore! Non mi irritolo! Io come te lo devo spiegare... Allora, io sono arrivato qua, tranquillo, beato, con te, con la mia palla a piede, che sei te. 8 mesi a casa, no, cicchi cicchi, perché io non avevo voglia, tu neanche. Guarda, guarda l'Anto che non fa cicchi cicchi da 6 anni. Allora, allora, che devo dire, caro amore mio, io ho fatto, non è che posso bagnare, ma anche in Svizzera vado a fare cicchi cicchi, dunque con te, che poi mangi pesante, hai peli che sembrano degli aghi, vuoi che faccia cicchi cicchi vacanza? No, voglio stare in relax! Gioco animazione! Animazione! Oh! 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 Turista! Come ti chiami? Come ti chiami? Va bene, giovanotto, vai con il gioco animazione! Sì, ehi! Animazione coriena alla muli da setteları club! Gioco animazione! No Prison! Allimazione! 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 Apes! Cicchi Cicchi! Apes! Cicchi Cicchi! Apes! Cicchi Cicchi! Allimazione! Animazione! Sette Marie Club! Floriana Ragun! Cicchi Cicchi! Bravo! Onozone! Sette Marie Club! I guess! People! FB! 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 Grazie a tutti.